Nella video-lezione di oggi noi parleremo di scuola siciliana. La nostra storia comincia nel 1186, quando l'imperatore Enrico VI sposa Costanza d'Altavilla, Normanna. Con questo matrimonio Enrico VI riesce ad annettere i territori dell'Italia meridionale all'impero. E da questo matrimonio nascerà Federico II, che diventerà imperatore dal 1220. In effetti Federico II, arrivato al potere, deve prima risolvere alcuni contenziosi col Papa. E quello che non è proprio una pace, ma tutto sommato possiamo dire un accordo tra lui e Gregorio IX, il Papa Gregorio IX, Questo accordo appunto viene esiglato intorno al 1230. Però, per la verità, Federico già da prima di questa data, di accordo col Papa, aveva cominciato la riorganizzazione del Regno. E allora dobbiamo vedere questa riorganizzazione politica del Regno, in particolare dell'Italia meridionale, come procede. Innanzitutto Federico II decide di scegliere notai e giuristi prendendoli dai laici. Quindi decide di non avere a che fare con una società feudale ancora legata a un ruolo importante e preponderante degli ecclesiastici. Ed è una scelta molto importante che lui fa anche in Germania, quella di Federico II. Nell'Italia meridionale sarà una corte laica e questo aggettivo avrà un peso importantissimo poi nelle scelte culturali che Federico II farà. internazionale perché in effetti l'Italia meridionale è il crocevia di culture come quella bizantina, come quella normanna, come quella araba, oltre che naturalmente la cultura autoctona. e quindi il regno meridionale di Federico II è un regno multilingue. E tra le varie lingue, tra le molte lingue che si parlavano nel suo regno, Federico farà una scelta molto molto importante. Sceglierà il latino ancora per quanto riguarda le pratiche pubbliche, quindi i documenti pubblici, politici, mentre sceglierà il siciliano, e vedremo in che modo, per quanto riguarda la produzione culturale. E la corte di Federico II è una corte mobile, cioè pur avendo sicuramente il suo centro di potere a Palermo, Federico II si spostava costantemente in tutte le parti, tutte le zone, i territori del proprio impero. Un po' per controllarlo di persona, meglio, perché, lo diremo subito, anzi lo anticipiamo, l'imperatore aveva un bisogno molto forte, che è quello di un accentramento di tutto il potere comunque nelle sue mani, quindi tutto comunque passava dalla sua ultima decisione, ma nello stesso tempo anche per stare più vicino ai propri sudditi. Dimostrazione di questo sono i tantissimi castelli federiciani che troviamo in tutta l'Italia meridionale. La riorganizzazione politica e per certi aspetti anche sociale del regno, ovviamente investe anche in l'organizzazione culturale che Federico II ha voluto dare all'Italia meridionale. E' il 1224 quando Federico fonda l'università di Napoli, è un'università laica, un'università cioè prima università in cui non vengono coinvolte figure che appartengono al mondo ecclesiastico. Nello stesso tempo permette, concede, anzi favorisce lo sviluppo di un'importante scuola medica che si trovava già da tempo a Salerno e, lo accennavamo nella slide precedente, quando si tratta di scegliere tra le tante lingue quella che doveva essere la lingua della letteratura, quindi della produzione culturale dei poeti, dei scrittori di questo regno di Federico II, sceglie un siciliano illustre, cioè diremo in maniera molto semplice, purificato, limato di tutti quei termini troppo dialettali che potrebbero ovviamente non essere compresi da tutta l'Italia meridionale, in contrasto appunto con invece il primato della lingua latina che imperava un po' in tutta l'Europa, tanto per la produzione letteraria quanto soprattutto per la produzione in ambito politico. Ed ora, dopo questa introduzione in natura storica, politica, sociale, ecco che possiamo riannodare quel filo che porta dalle corti provenzali, quindi dalla lirica provenzale, fino alla corte di Federico II, cioè fino ai siciliani, fino a quella che appunto è chiamata la scuola siciliana. Nel 1209, Innocenzo III, comincia la crociata contro gli albigesi. Approfittando naturalmente di questa crociata, stermina, distrugge i castelli dove fioriva questa cultura che era la base della lirica provenzale. Abbiamo visto in un'altra precedente videolezione come questa cultura provenzale si basasse sulla riflessione, su un amore laico, un amore spesso extraconiugale, e che quindi di fatto, insomma, un amore che metteva in crisi i principi stessi su cui si fondava e si fonda la religione cattolica. E quindi possiamo capire come Innocenzo III, attaccando questa eresia degli albigesi, volesse in qualche modo chiudere anche con una cultura che era vista come pericolosa da parte della Chiesa. I trovatori cominciano a disperdersi nelle diverse corti europee, i loro scritti si diffondono, vengono copiati, letti, commentati, e alcuni di questi scritti, letti, commentati, trascritti, nell'Italia del nord, nella zona appunto di Padova, arrivano poi nell'Italia meridionale. E qui i poeti siciliani entrano in contatto con questi testi provenzali, li leggono, riflettono, commentano, e così riescono a prendere quello che ritengono più opportuno, quei temi che ritengono più vicini a loro, all'ambiente della corte di Federico II. Nasce così quella che appunto è definita, la definiamo la scuola siciliana, usiamo questo termine appunto di scuola per la prima volta perché in effetti il concetto di scuola è stato ben usato nel rapporto a quel movimento che si sviluppa sotto Federico II perché in effetti si tratta di una serie di poeti che per quanto scrivano in maniera diversa e trattando ovviamente diversamente lo stesso tema, di fatto si ispirano agli stessi principi e sono principi unificatori, voluti anche dal loro imperatore, cioè da Federico II, quindi a tutti gli effetti questa scuola siciliana può appunto essere definita in questo modo perché ci sono dei principi unificatori accettati anche da quello che è il capo politico e quindi sociale e culturale di questo esperimento, come possiamo dire, straordinario che Federico II compie nell'Italia meridionale. Proviamo a dare delle date di inizio e fine di questo movimento letterario. Beh, la data di inizio e come quelle di fine sono sempre ovviamente date che non possono rimanere così fine a se stessi ma devono ovviamente essere contestualizzate. Possiamo dire che la scuola siciliana ha ragione d'essere con Federico II per cui non può non nascere che non può non nascere prima del 1220 cioè nasce quando Federico II diventa imperatore. Per quanto riguarda la data di fine della scuola siciliana è un fenomeno talmente legato non solo a Federico II ma all'esperienza, appunto quello che ho detto poco fa questo esperimento politico-sociale che Federico II aveva fatto in Italia meridionale a quell'epoca la sua fine non può che essere anche può coincidere con la fine di questo esperimento e quindi con la fine di Federico II. Per quanto riguarda le date ne indichiamo tre quelle che insomma normalmente sono indicate le date di fine di questa esperienza siciliana. La morte di Federico II secondo alcuni in 1250 come data in 1250 è una data certa ma secondo alcuni nel senso che ecco la morte di Federico II che finisce il fenomeno della scuola siciliana qualche altro studioso tende a portare quindi la fine di questa scuola qualche anno dopo cioè la sconfitta Benevento di Manfredi da parte di Carlo I d'Angio appunto del figlio Federico II ancora qualche altro critico cerca di portare questa fine al 1268 o soltanto due anni dopo quando lo stesso Carlo I d'Angio sconfiggerà questa volta a Tagliacozzo il nipote di Federico II Corradino però possiamo dire che tra il 1266 e il 1268 insomma gli anni sono si tratta solo di due anni di differenza possiamo dire che effettivamente questo esperimento anche culturale della scuola siciliana può dirsi completato poco dopo la metà del 1200 Come abbiamo visto per le altre lezioni andiamo un pochettino più nello specifico ne abbiamo già parlato ampiamente prima per cui è un fenomeno quello della scuola siciliana che riguarda l'Italia meridionale in particolare si sviluppa nei castelli federiciani ho preso in considerazione quello forse più famoso ma insomma forse quello dove Federico è stato meno rispetto ad altri comunque è sempre l'ambiente cortigiano quello che vede fiorire di questa letteratura andiamo ora a delineare i caratteri dell'intellettuale della scuola siciliana in base anche a tutto quello che abbiamo detto per quanto riguarda quella premessa storica politica e sociale che abbiamo fatto innanzitutto l'intellettuale siciliano non è un professionista in che senso è un grande dilettante nel senso che rispetto all'intellettuale trovatore quindi della Provenza che faceva dello scrivere versi la sua occupazione fondamentale della vita questi intellettuali siciliani sono invece i notai, i giuristi uno è anche un re Federico II per cui di fatto si dedicano a letteratura nel tempo libero ecco la definizione non professionista risiede proprio in questo poi sono di tra virgolette dilettanti strabilianti pensiamo insomma Jacopo Dalentini che di fatto secondo i critici abbia inventato perfezionato sistemato la struttura del sonetto l'intellettuale abbiamo detto quindi non è un professionista infatti un re può essere il segretario personale del re come Piero delle Vigne può essere il notario può essere un giurista che appunto svolge una propria funzione importante sociale all'interno del regno e che nel tempo libero si dedica appunto di letteratura che diventa un vero e proprio svago e questo è importante perché la letteratura comincia a entrare in una sorta di torre d'avorio insomma e comincia almeno in questa circostanza a essere un pochettino più separata dal contesto politico sociale la lingua utilizzata abbiamo detto prevalentemente un volgare siciliano poteva scegliere tra tante lingue abbiamo detto che il regno meridionale di Federico II è un regno appunto dove c'erano tante parlare tante lingue sceglie il volgare siciliano illustre quindi privato di quei termini troppo dialettali che poco potrebbero trovare spazio diciamo in un in un contesto che è quello dell'Italia meridionale quindi anche lontano dalla semplice isola della Sicilia rispetto alla letteratura provenzale era una letteratura individuale e questo è un aspetto interessante in effetti l'intellettuale abbiamo detto comincia un intellettuale dilettante cioè un intellettuale si dedica letteratura come svago e quindi comincia a provare il vero e proprio piacere di una letteratura fine a se stesso cioè una letteratura che poesie che non sono scritte per essere recitate in un pubblico ancorché ristretto come quello della corte ma si tratta di poesie che sono scritte per una lettura individuale appunto nello svago nel tempo libero di altri funzionari e di altri intellettuali a questo punto possiamo anche tirare un attimo le somme per quanto riguarda una sorta di parallelismo tra lirica provenzale e scuola siciliana una lirica provenzale che si sviluppa nella Francia del sud rispetto a una scuola siciliana che invece ha come spazio culturale l'Italia meridionale il tema centrale è sempre quello dell'amore ma nella lirica provenzale questo amore ha implicazioni sociali importanti spesso la donna amata è appunto la moglie del castellano quel signore è la midons quindi l'amore dei trovatori è un amore che vuole essere anche l'occasione da parte di un intellettuale laico di imporre alcuni suoi principi quelli dell'appunto di amore Andrea Cappellano in contrapposizione con i principi allora imperanti che erano quelli ecclesiastici o comunque della chiesa cattolica per quanto riguarda il tema centrale della scuola siciliana è pur sempre il tema amoroso ma ormai sganciato da qualsiasi implicazione sociale era abbastanza complicato da parte dell'intellettuale siciliano cheppur era stipendiato da Federico II poter scrivere qualcosa che potesse in qualche modo prevedere una sorta di se non di rivoluzione sociale di riflessione sul modello sociale che ovviamente era stato loro imposto a Federico II e che loro avevano accolto a braccia aperte quindi di fatto l'amore diventa un sentimento esclusivo e senza nessuna implicazione con il resto della società abbiamo già detto che l'intellettuale siciliano non è un professionista come quello della dittica provenzale che il pubblico della poesia siciliana è un pubblico diciamo di se stesso cioè le poesie della scuola siciliana non sono destinate a una lettura pubblica nella corte ma sono destinate a una lettura in privato la donna per quanto anche la scuola siciliana idealizzi la figura della donna secondo i principi del De Amore e Andrea Cappellano questo processo di idealizzazione diventa ancora più marcato abbiamo visto che l'amore non ha nessuna implicazione sociale quindi non si può utilizzare la tematica dell'amore per parlare di un cambiamento della società in particolare della società di Federico II e quindi l'amore diventa appunto fine a se stesso e diventa questa donna sempre meno fisica e sempre più idealizzata sono presenti molte metafore tratte questa volta dal mondo naturale la lingua della lirica provenzare era la lingua doc o citanica la lingua della scuola siciliana l'abbiamo detto è il siciliano illustre quali sono i poeti di questa scuola l'imperatore Federico II abbiamo citato alcuni Giacomo Dalentini a cui appunto si attribuisce l'invenzione della struttura rigida del sonetto il segretario personale Federico II Pier delle Vigne e poi Guido delle Colonne Rinaldo D'Aquino Stefano Protonotaro Odo delle Colonne Jacopo Mostacci Giacomino Pugliese e altri poeti meridionali